ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi video svuota la spesa acqua e sapone perché visto che ci sarà un nuovo lockdown allora abbiamo fatto un pochino di scorta da acqua e sapone anche perché ci sono un po di offertine che vanno fino al 15 di novembre acqua e sapone rimarrà aperto perché è generi di prima necessità comunque mi hanno detto che non chiuno quindi potete andarci se è nel vostro comune se non è nel vostro comune no però piccola premessa però innanzitutto vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale di iscrivervi qua sotto cliccando sul pulsantino iscriviti e attivando la campanellina di fianco così vi arriva la notifica quando dice un nuovo video se ancora non lo fate vi lascio il link diretto giù nell'info box per seguirmi su instagram se vi piace questo video vi ricordo di mollarci un bel like e se volete commentate allora è una spesa mista perché l'ho fatta con mia mamma vivendo in casa con mia mamma per chi non lo sapesse quindi c'è un po di detersivi e poi un po di mie cosine che vi faccio vedere partiamo appunto dei detersivi e mia mamma ha preso questa mega confezione di detersivo del marchio soft liquid gel lavatrice più concentrato con enzimi attivi bianco color tech 2,5 litri al muschio delitato la profumazione che ha scelto lei sentiamola che non l'ho sentita buono sa di muschio bello fresco chiudiamoglielo bene perché sennò poi esce e questo l'ha pagato 1,90 euro quindi sarà in offerta poi sono 2,5 litri abbiamo detto allora un secondo poi ha preso il suo amato coccolino questo è ammorbidente sì il nostro amato ammorbidente della coccolino si trova benissimo ma con questo poi mi piace il packaging questo qua con la plastica riciclata così va a riempire poi i vari flaconi questa volta abbiamo preso l'orchidea viola e mirtilli appunto coccolino creation eco pack sono 700 ml e questo l'abbiamo pagato 1 euro quindi sono super sono sempre super in offerta più o meno gli ammorbidenti di coccolino fatti così poi sempre detersivi ha preso questo del del marchio sole lana e seta visto che adesso arriva la stagione invernale quindi qualche capo di lana si lava quindi ha deciso di prendere questo 16 lavaggi capi delicato capi delicati con olio di paciuli appunto lana e seta un litro si questa è una profumazione dolce invece e questo fabuloso 1 euro e 25 poi la borsa ha preso questo della fabuloso l'irresistibile profumo per capi con ammorbidenti con ammorbidente attraente scintillante fiori di safran questo sono 650 ml sentiamo anche questo visto che ha un profumo con l'ammorbidente buono delicato questo e questo pagato un euro un euro quindi tutto in super offerta ha preso mamma vuoi vedere se c'erano altri no come altri detersivi basta poi abbiamo preso la solita castigenica che vi faccio vedere intanto grazie questa qua grazie natural 4 maxi rotoli maxi soft ci troviamo bene la prendi sempre perchè anche quasi sempre in offerta e questa un euro mi sembra si mi sembra un euro si guardo giù per che ho lo scontrino non mi fa cadere niente Giulia allora poi sempre lei ha preso i panni questi qua tutto panno carta cattura polvere ideale su tutte le superfici riutilizzabili più di 20 volte però pulisce senza residui 40 panni questi per il pavimento e così e questi pagati un euro e 50 poi mi sembra lei basta si per lei basta poi faccio vedere le cose per tutti che utilizziamo sia io che lei allora vabbè io ho preso gli assorbenti che erano in super offerta ne ho presi due confezioni allora due di linea s idea ultra quelle notti e due di linea s ultra quel di giorno diciamo quelli giorno non li ho forse non li ho mai provati comunque li ho voluti prendere a 75 centesimi sono in super offerta sono 8 e 7 sono un po' pochini però appunto ne ho presi due confezioni cioè due e due ecco per capirci e lanciamo tutto dietro eh sì 75 centesimi ve lo sì quindi in super offerta poi abbiamo preso un po' di dentifrici abbiamo preso questi qua della zeta che ce ne sono tre con multiprotezione e uno prevenzione superiore si 3 più 1 gratis appunto e questi li abbiamo pagati 2,99 euro 4 quindi ottimo altri dentifrici presi io ho preso quelli i miei preferiti aspettate che trovo anche l'altro in super offerta dell'antica erboristeria questa volta ho preso questo qua purificante che forse non ho mai provato ha un euro questo e quello il mio solito sbiancante mi piace tantissimo sempre un euro e in omaggio ci davano anche lo spazzolino medio questo qua un euro un euro e se ne accusavi due appunto in omaggio avevi lo spazzolino che poi mi sono un po' incavolata con piccola parentesi mi sono un po' incavolata col commesso perché gli ho dovuto dire io gli omaggi che c'erano cioè fischia fai te il commesso non lo faccio io la commessa nel senso se so che dovrebbe anche dartelo l'omaggio che devi dare vabbè ho fatto non l'incivile però ho fatto quella che chiede gli omaggi perché c'era l'omaggio e quindi ho chiesto l'omaggio poi l'ho preso tra virgolette apposta per ricevere lo spazzolino perché è sempre comodo avere uno spazzolino in più quindi ho richiesto l'omaggio scusate piccola parentesi poi abbiamo preso un po' di deodoranti poi vedremo chi li utilizzerà però vabbè allora io ho preso questo questo è sicuramente mio perché mia mamma non li usa così il gold fresh al melograno questo qua che mi sembra di non aver mai utilizzato lei invece ha scelto questo qua il gold fresh alla pera che gli ho consigliato io che era buono e anche lei al melograno li ha presi così e costavano tutti un euro e 49 giusto no sì sì un euro e 49 un euro e 49 un euro e 49 sì e in omaggio c'era la rubrica non rubrica questo quadernino me ne è nati due perché adesso ho preso tre deodoranti ma me ne è nati due e poi abbiamo preso vabbè le mie solite salvettine intime che avevo quasi finito le scorte le ho presi della fria questo giro perché quelle di chili ce ne sono dentro 12 quindi sono un po pochine però ce ne sono in effetti queste della fria che non ho mai provato queste all'interno ne troviamo 20 quindi ottime ho preso questi con agente antiodore azione protettiva effetto normalizzante 5.5 non si va tanto in giro però le ho volute prendere lo stesso queste non sono testate sugli animali e poi ho preso queste anche con relief complex azione riequilibrante effetto lenitivo 4.5 ph attivo tessuto gettabile biodegradabili e niente queste queste due varianti e 2 euro e 90 una 2 euro e ma la faccia du cavolo mi pensavo meno vediamo si ah no no scusate 1 euro e 45 l'una 2 euro e 92 ecco mi sembrava un po' cari 2 euro e 90 una confezione di salviettine intime poi abbiamo preso un detergente intimo che non abbiamo mai provato questo qua è la marchio termae termi di salso maggiore eh idratante e tonificante a base di acqua termale dal 1850 di salso maggiore con latte d'avena e distratti naturale ph 5,5 eh particolarmente vabbè indicato per donne adulte a 1 euro questo e sono 200 ml vediamo dentro com'è sono curiosa ah normale così lo proveremo eh con oli essenziali e vabbè proveremo questo lo proveremo anche questo eh 1 euro ve l'ho detto sì poi abbiamo preso un sapone liquido visto che ci laviamo le mani in continuazione ho voluto prendere questo con antibatterico di felce azzurna ehm a me e con menta e lime 300 ml da mettere in cucina e questo 1 euro pagato ottimo poi poi veniamo a tre cose succulenti un po' così che ho preso io ho preso il gel ingenizzante di organi shop mai visto appunto ehm il gel per le mani con il 60% di alcol e niente questo qua da tenere che ho in casa che ho in casa in borsetta piccolino questo sono 200 ml e viene e viene ehm viene 2 euro questo appunto da tenere in casa o in borsa poi poi un altro da tenere in casa in borsa questo però di biopercare ehm back to school gel mani detergente igienizzante questo invece al 70% no al 70% di idroalcoli gel all'aloe vera ehm questo invece sono 50 ml si si questo e questo veniva un euro questo invece ok comunque la metà della metà dell'altro poi ho preso il bagno doccia di Garnier ultra dolce Garnier ehm ultra delicato con detergenti di origine vegetale alfico orientale e zucchero di canna per adulti e bambini idrata e purifica 500 ml mai provato mmm che buono buonissimo mai provato l'ho voluto provare e questo era in offerta in offerta in offerta non cacchio è Garnier dai Giulia allora arrivo eh da da no Garnier Giulia oh ragazzi non c'è no non c'è felce dav antivatterico c'è antica erboristeria a z da da fria miglia da di ok fabuloso lines 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 coccolino non me l'ha fatto pagare boh vabbè ehm 2 euro 1 euro qualcosa non mi ricordo comunque questo non me l'ha fatto pagare quello duro non c'è solo scontrino vabbè dettagli e poi non dicevo nessuno e poi ho preso un tonico di Nivea il tonico vitamin vitalizzante acqua purificata fiori di loto sacro 200 ml per pelli normali miste questo ho mai provato eh l'ho voluto provare erano offerta questi buono per voi buono per te buono per te Nivea e questo invece questo si me l'ha fatto pagare 2 euro e 75 se non mi ricordo male sì 2 euro e 75 erano offerta sono un po' a corto di tonici quindi ho preso questo poi farò un video su ehm un un video sul sito che ho fatto acquisti di equilibria su Privaglia quindi deve arrivarmi e basta quello poi vabbè varie box che fare che farò ehm video delle varie box che mi arrivano e niente questi qua sono stati tutti i miei appissi da acqua e sapore a parte questo che non me l'ha fatto pagare l'intruso che non me l'ha fatto pagare vabbè pazienza io vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e